Al netto di verifiche, percorsi condivisi e altre formule burocratiche, la piscina di Muggiò, unica vasca olimpionica di Como, resta chiusa fino a data da destinarsi. Dall'incontro di ieri tra gli assessori alla partita, Vincenzo Bella per i lavori pubblici, Marco Galli per lo sport, i vertici della Federnuoto e il direttore dell'impianto non è emersa una data di riapertura. Il Comune aveva già effettuato degli interventi urgenti di messa in sicurezza, spiega Palazzo Cernezzi in una nota, ma ad oggi questo ulteriore impegno non può essere adottato dagli uffici che sono concentrati sulle scuole e su altri edifici comunali. L'ipotesi allo studio delle parti è un accordo tra Comune e Federnuoto, con il quale il Comune finanzierà gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti e la Federnuoto si occuperà di progettare e far realizzare le opere, impegnandosi nella successiva gestione dell'impianto. Nel frattempo, aggiunge Palazzo Cernezzi, saranno sentiti gli organi autorizzativi per individuare soluzioni che consentano di anticipare la riapertura della piscina nell'emore della realizzazione delle opere necessarie e nel rispetto delle regole. In altre parole, atleti e società continuano ad aspettare a Bordovasca.